Il riconoscimento dell'autobusione per le parti civili è stato di 40.000 euro, poi c'è la quantificazione del danno della misura integrale che è stata messa da parte dell'autobusione. Come commenta la sentenza? Le sentenze non si commentano, è stata una sentenza che ha esattamente confermato quella che era l'imputazione del dilello, quindi sia per quello che riguarda il crimine, anche la premeditazione, anche le modalità con cui il reato è stato compiuto. E altro non è stato che il premio del rito che ha consentito di portare l'ergastolo a 30 anni, questa è la realtà delle cose. Siete soddisfatti? Siamo soddisfatti, qui è morto un ragazzo, ci sono stati dei fatti gravissimi che hanno distrutto tre famiglie, non c'è da essere soddisfatti. La famiglia Delisa si è sempre affidata dall'inizio, non da questa vicenda, da quando era successo quello spiacevole incidente stradale al tribunale e continua ad avere fiducia nelle istituzioni. La famiglia Delisa è una sentenza importante perché siamo in uno stato di diritto, quindi non ci si può fare giustizia da sé, ma la giustizia la devono fare i tribunali. Questo ha sempre pensato la famiglia Delisa e penso che ciò emerga anche dal dispositivo della sentenza che sta letta oggi. La difesa ha preannunciato l'appello? La difesa giustamente deve adoperare tutti quelli che sono gli strumenti in suo possesso per tutelare il proprio assistito. Su questo noi non abbiamo, se intende fare l'appello avrà tutto il diritto di coserlo fare e di utilizzare tutti gli strumenti in possesso.